Anche quest'anno Cingoli dà uno schiaffo alla crisi e torna domani sabato 8 agosto con il Balcone della Moda. Una serata per mettere in mostra il meglio dell'industria manifatturiera delle marche. Tanta la soddisfazione degli organizzatori. Noi ci teniamo molto, quindi l'undicesima edizione io veramente dovevo andare in pensione alla decima, l'avevo promesso, ma poi il sindaco e l'assessore mi hanno convinto a continuare. Quest'anno è stato molto difficile, però noi abbiamo voluto continuare perché abbiamo trovato molti interessati a questa manifestazione, quindi ci hanno pregato di continuare. Ci dispiace che c'era anche la Compartigianato che era con noi e quest'anno non ha partecipato perché ha scelto Civitanova, non so, altre zone. Però noi continuiamo, pensiamo di farla forse come l'anno scorso se non più bella. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che ancora hanno creduto e che ci aiuta ad andare avanti in questa manifestazione, perché vede, è una manifestazione che è arrivata a livello regionale, quindi è sentita un po' in tutta la regione, quindi è un aspeggio di continuare ad andare avanti, speriamo che gli altri continueranno. Abbiamo rinnovato anche quest'anno questa importante manifestazione, non è super ripetere che questa è l'industria che esporta nel mondo, che fa l'immagine del nostro paese e tutte queste piccole aziende che sono nel territorio delle Marche, in particolare a Cingoli dove c'è un'impresa ogni 5 abitanti, molto spesso sono in un cono d'ombra e non riescono neppure a mettere fuori o a pubblicizzare i loro prodotti. È il meglio del meglio che c'è del Made in Italy e quindi questa davvero è una bella iniziativa. Nonostante le difficoltà che si incontrano nell'organizzazione di questi eventi, siamo riusciti, grazie agli sponsor, a mettere in piedi una gran bella serata. Un'opportunità sicuramente per gli artigiani locali e non solo, e una stupenda serata in una piazza magnifica con Giosquillo che presenterà la serata, insieme a Marco Moscatelli, interventi di cantanti, ballerini e quant'altro. Quindi ci resta solo che sperare nel buon tempo. Una edizione di riconferme e di novità perché ci sarà Giosquillo, ancora lei, sul palcoscenico a coordinare i lavori insieme a me, poi il gruppo delle ballerine Crozza delle Meraviglie che saranno protagoniste per degli inframezzi, poi ci sarà Luca Lattanzio che è il reduce da una tournée russa, colui che apre i concerti di Albano Carrisi, quindi sarà un cantatore marchigiano sul palcoscenico, poi ci saranno delle gag esileranti di Laura Marcolini, poi la regia ancora una volta firmata da Chiara Nadenic che andrà ad assemblare queste 15 aziende che hanno aderito al progetto di questa undicesima edizione.